Un'iniziativa più originale che mai, girare l'Italia in bicicletta per promuovere la classica tazzina di caffè. È così? Esatto, è così. Il gesto più quotidiano per tutti noi, per tutto il mondo, non solo per l'Italia. Però dietro questo gesto quotidiano c'è un'infinità di cose, un lavoro grandissimo. Fare una tazzina di caffè è uno sforzo disumano da parte dei produttori. Quindi vorrevo sensibilizzare e porre attenzione su questo tema qui, dare giusto valore alla tazzina e sensibilizzare sul cambiamento climatico che sta veramente attaccando il caffè e rischiamo di non avere più il caffè, quindi neanche più il gesto quotidiano, nel 2050. Questa è una cosa molto grave e forte. Volevo sensibilizzare su questo tema, per questo ho preso la mia bicicletta e sto facendo Firenze-Lecce-Specchia con tappa a Pescara. In Italia siamo dei grandi consumatori del caffè, fa parte della nostra storia, anzi l'Italia del caffè ha scritto la storia di questo prodotto. Non è vero che il made in Italy del caffè è fortissimo nel mondo, solo che negli ultimi 20 anni ci siamo dimenticati di continuare a studiare ed evolvere questa storia. Ecco, il nostro compito è quello di riportare nuovamente il caffè italiano in alto e cercare di educare il consumatore a bere del buon caffè. Ho portato un caffè di un piccolissimo produttore in Costa Rica, siamo a 1600 metri di altitudine sopra la West Valley, una varietà botanica chiamata Catuai e un processo di fermentazione anaerobica. Ho visto quante cose ci sono dietro a un caffè? Ecco, questo ve l'ho detto semplicemente perché vorrei incuriosirvi, vorrei che la gente iniziasse a chiedersi che cosa c'è dietro questa tazzina. Quindi domani quando andate a bere il vostro caffè nel vostro bar chiedete come è fatto quel caffè, cosa c'è all'interno di quel caffè e non parlo del marchio del torrefattore che lo produce ma parlo proprio dell'origine, da dove viene trasparenza e tracciabilità assoluta. Questo ne abbiamo veramente bisogno.